Ciao a tutti ragazzi, io sono con Dani Top Game, quello che faccio i video di Roblox e dei cose, e oggi andiamo a vedere subito un SCP, dobbiamo essere molto veloci perché io ho tempo, allora, apriamo la porta, SCP classe safe, vieni dentro, e peraltro ci sono i bottoni, allora SCP 500, una scena, questa conosciamo praticamente tutti, è una pillola pura. Ce ne sono ben 47, infatti qua ce ne sono le pillole, dell'SCP, allora, io direi di provare a mangiarne una, infatti si chiamano pure SCP 500, vediamo un po', hai ragione, certo che non ho fame, quindi come faccio? Ok, io ne mangio una, qua c'è pure una, scusa, apriamo la cassa, ci stanno dei lingotti d'oro, altre tè, altre, e ci stanno i P90, amo, hai. Allora, mi ha dato tre effetti, resistenza, rigenerazione 5, resistenza al fuoco e assorbimento, vabbò, io ragazzi direi che per questo video è tutto, si lo so, è durato molto, si lui è una suora, però io ragazzi non è colpa mia se avevo poco tempo, Non riuscirò manco a fare la migliatura, quindi scusate se non la migliatura del video uscirò un po' in ritardo, però la farò da me e da Dany, è tutto, se riuscisse a venirci, ciao, che ha la mia skin, tra l'altro. Ok.